ciao a tutti ragazzi benvenuti in questo nuovissimo unboxing come potete vedere ho già aperto il pacco così per facilitarmi prima e ho preso vediamo insieme cosa ha preso anche se io so già il contenuto del pacco ho aperto solo il pacco sulla parte dove c'era scritto il indirizzo allora ho messo un bel giornale per fare per non fargli prendere danno e come potete vedere ho preso degli album insieme a delle carte pokemon che mi mancavano preso anche gli album in più che non sapevo dove metto le altre carte che ho ho preso anche insieme agli album delle carte del set base ok niente allora come dicevo preso delle carte base che mi mancavano per portarmi avanti con il set intanto questo è il primo album ultra pro collector's album poi abbiamo il secondo così da riempire tutto e da mettere le carte abbiamo il terzo ecco qua questo è il terzo abbiamo il quarto e poi entrare in video tutto con le carte pokemon il quinto e in quest'ultimo avrà messo le carte anche perché è un po più in dubbio infatti ragazzi ecco le carte ecco le carte poi andremo a vedere nel dettaglio con il mio tu il gheridos polio e queste sono le carte che ho preso ora le tiro fuori e andremo a vedere al meglio nel dettaglio così mi porto avanti con il set base poi in questi giorni farò un video dove sistemiamo il set base agli altri set che ho vecchi negli album appositi negli album appositi intanto ragazzi eccovi il gheridos in italiano fantastico del set base poi abbiamo hit point chain new to fantastico my jump sempre in italiano straordinario nineties box polifrat i carter in riccia destra mento pokédex destra mento plus potenza destra mento tutti questo rock e Clefairy e niente mettete vi piace, commentate, iscrivetevi al canale e noi come sempre ci vediamo nel prossimo video ciao a tutti belli